La città di Calimera è pronta ad accendersi in occasione della tradizionale festa dei Lampioni dedicata a San Luigi Gonzaga e in programma il 20 e il 21 giugno prossimi. L'evento che apre l'estate Salentina è una tradizione che si tramanda da 25 anni e che vedrà illuminata la piazza e le strade del paese con i caratteristici Lampioni, strutture di canellacustri essiccate al sole, spago fil di ferro ricoperte di carta velina e costruite dai soci della Proloco di Calimera. Quest'anno il programma è ancora più vasto rispetto ai anni precedenti quindi abbiamo vari gruppi che si susseguono, varie iniziative anche nel sociale quindi abbiamo voluto e cercheremo di farlo sempre di più, di coinvolgere le associazioni presenti sul territorio. Immancabile il cosiddetto cuturusso, il tradizionale terallo morbido. Ormai questa è la festa simbolo della provincia anche perché si apre la stagione estiva del nostro Salento, un paese bellissimo, un territorio ricco e soprattutto che dà tanto ai turisti. Il programma si apre con canti, conti e curti, un percorso che vuole unire la natura, la storia dei luoghi e dei personaggi che hanno reso viva la comunità. Per le vie del centro storico sarà poi allestito il mercatino di arte, artigianato ed enogastronomia. Protagonista indiscussa della festa dei Lampioni sarà poi la musica. La direzione artistica dell'evento è stata infatti affidata ad Antonio Castrignanò. Anche in questo caso abbiamo scelto e programmato due chicche eccellenze del Salento in generale e spero che la festa dei Lampioni sia effettivamente il contenitore giusto per queste due realtà. Il meraviglioso spettacolo di luce e di colori sarà trasmesso in diretta su Telerama mercoledì 21 giugno a partire dalle ore 21 e un quarto. Sì, anche quest'anno il 20 e 21 giugno, nel giorno del sostituto d'estate, avremo questa grande festa. Calimera sarà piena di colori e di luci per festeggiare la festa dei Lampioni. Quest'anno abbiamo un motore in più, una propulsione in più, che siete voi di Telerama che sarete con noi per mandare in diretta la nostra festa.